bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing io sono xyuder e io la pami ragazzi è già il terzo appuntamento oramai che facciamo con l'unboxing dei videogiochi vintage che mi arrivano per la collezione questi sono video dedicati agli appassionati cos'è arrivato oggi mostrare please number one e number two si è mai fatto vedere no no non l'ha fatto vedere non l'ha fatto vedere easy come si dice signori due anzi tre io mi auguro chicche per mega drive andiamo a vedere la pami e non fa vedere l'unboxing l'amboscia di fare vedere che apri te lo dico ogni volta aia prince of persia signori questo è un titolo che voglio provare con voi domenica prince of persia guardate che meraviglia la cover art davanti con lui palestrato a merda che sta distruggendo con un calcio volante credo un tizio con la sciabola con dietro la tartaruga con la ragazza viaggia per un labirinto di sotterranei persiani combatti contro le guardie malvagie e scopri delle pozioni magiche in 16 livelli pieni di azione la classica favola è diventata ancora più magica grazie alla fluida animazione alla vincente colonna sonora e ai nuovi rompicapo trabocchetto del 1993 del 1993 ragazzi prince of persia un titolone davvero 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 bello libretto copertina preciso the first and the second eh si questo è boxato ho fatto ho fatto questo è un fatto un grande acquisto signori batman forever solo che è sigillato raga mai aperto dalla sua confezione ahia ce l'avevo il batman forever ma ce l'avevo solamente per la versione americana come vedete dietro ci sono degli spezzoni per quello che riguarda lo proveremo in qualche modo costava 99 sterline nel 1990 è coperto perché c'è dietro un adesivo che non intendo togliere e dice entra nel vivo dell'azione con batman forever batman e robin si avventurano a gotham city in un gioco di combattimento a due giocatori armato con più di 125 attacchi incredibili mosse di combattimento micidiali e un potente arsenale poi che dice è scritto troppo piccolo il dynamic duo è pronto ad affrontare le menti diaboliche di two face e the riddler e senza dubbio batman forever ragazzi bello non lo potrò mai aprire perché lo tengo così però un grande pezzo da collezione e adesso apriamo l'ultimo che cosa sarà l'ultimo non ne ho idea questi sapevo più o meno che cos'erano almeno me lo immaginavo devo ringraziare il venditore devo scegliere sì però entro lepi vediamo non ce la fa non ce la fa raga non ce la fa attenzione sta aprendo tutto cosa sarà mai è più contenta lei cos'è quella roba lì c'è dentro del palistirolo che ce l'hanno rifilato per la cosa no non è niente è la roba mia come la roba tua scusate è roba mia ma che cavolo fa ma che cacchio è ma porco mo' è arrivato l'attaccapanni aspetta abbiamo comprato l'attaccapanni è arrivato che grande tristezza nel senso che bello una cosa anche per me c'è onestà non ce ne frega un cazzo l'attaccapanni ma è arrivato l'attaccapanni è arrivato porca vacca l'attaccapanni miau miau nel titolo ci sarà trova l'intruso ma porca vacca vabbè ero convinto che e invece vabbè non l'hai fatto vedere dammi questo attaccapanni si attacca qua si attacca ci serviva per il per il per il come si chiama per l'asciugamano del bagno perché non vabbè ragazzi anche per oggi abbiamo concluso abbiamo dato l'unboxing dalle 8 su twitch polliciate se vi è piaciuto e rimanete sempre sintonizzati noi ci vediamo domani mattina è live alle 8 e al prossimo unboxing ciao 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 Grazie per la visione!